I primi due quarti noi siamo partiti a mille e abbiamo fatto quello che dovevamo fare, quello che avevamo preparato e si è visto. Poi nel secondo tempo siamo entrati secondo me non superficiali perché onestamente questa squadra non lo è mai. Poi può risultare inconsciamente, sei un po' più leggero, sbagliando ovviamente rispetto all'inizio della partita, però non mi sento di dire che l'abbiamo presa sotto gamba. Mi sento di dire che abbiamo fatto qualche errore di troppo, loro hanno fatto dei canestri, poi sicuramente i tiri liberi li hanno aiutati a mettersi in ritmo. E poi ripeto, è una squadra che è energica, che gioca a pallacanestro con tutti dei possibili realizzatori. Quindi la nostra partita doveva essere impuntata sui cambi difensivi e su riuscire a imporre il nostro ritmo e con i cambi difensivi riuscire a gestire la partita. Loro sono stati bravi a punirci con qualche tiri liberi e con qualche rimbalzo in attacco, qualche bomba e niente, però poi appunto siamo stati bravi a restare lì come abbiamo dimostrato in diverse occasioni che anche nonostante la partita possa risultare poi magari un po' instabile, noi riusciamo a mantenere il controllo fino alla fine.